Aspetto alla giornata del malato, c'è un tuo pensiero rivolto alla giornata di oggi, a cosa rappresenti? Io torno sempre volentieri a Riuniti, sono stato ieri anche in una casa di riposo e domani andrò a Luol perché i malati sono nel cuore del Vescovo e della Chiesa e quindi diciamo la presenza, qui è una presenza doverosa, voluta e la preghiera che oggi facciamo a questa cappella dell'ospedale vorrei che si estendesse a tutti quelli che sono qui, a tutte le loro famiglie e tutti i malati della nostra diocesi. Per noi i malati sono veramente nel cuore della nostra preghiera. Ci sono tanti che non hanno accesso alle cure, poi ci sono gli invisibili nei ghetti, per loro? Intanto preghiamo per tutti e poi è chiaro che con le istituzioni cercheremo di fare quello che va fatto. Grazie mille.